Il Movimento 5 Stelle in Regioni ha chiesto di istituire già da un po' una commissione di inchiesta regionale che faccia chiarezza sul tema acqua in Abruzzo e la proposta ha già iniziato il suo iter formale. In conferenza stampa il capogruppo Sara Marcozzi e gli altri esponenti dei 5 Stelle, proponenti dell'istanza alla Marcozzi, ha approfondito le motivazioni che l'hanno portata a prendere questa iniziativa allo scopo di andare in profondità sui tanti problemi che il sistema idrico integrato ha messo in mostra per decenni. Dal momento che la Regione ad esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo è necessaria per i pentastellati la presenza di un presidio fisso sul tema all'interno delle istituzioni, uno strumento che finora è mancato. Per questo per loro la commissione è necessaria, non è però una caccia alle streghe, hanno specificato, dovrà solo mettere ordine e proporre soluzioni. Per i 5 Stelle anche il PNRR offre opportunità e risorse, ci saranno anche risorse per le reti idriche, l'Abruzzo ne ha di pessime, hanno detto i presenti. Tra le peggiori del paese, con la città di Chieti, ha spiegato la Marcozzi, maglia nera tra i capoluoghi di province italiane per la percentuale di dispersione d'acqua, oltre il 70%. Problemi poi sulle tariffe, ma anche sulla gestione e fondi che sono stati usati negli anni più per riparare danni che per efficientare la rete. Ci siamo posti il problema di risolvere un problema per gli abruzzesi, un problema annoso. Noi abbiamo come obiettivo quello di fare una fotografia di quella che è la gestione del sistema idrico integrato nella nostra regione con tutte le criticità che ci sono in ogni provincia, quella di Chieti su tutte, fare una fotografia, cercare delle soluzioni, capire quali sono i problemi, di quanti fondi abbiamo bisogno e risolvere i problemi dei cittadini abruzzesi. Del resto fondi grazie al PNRR ne avremo, per cui la Commissione è finalizzata ad individuare tutte quelle opere, quegli interventi che saranno necessari a ridurre le drastiche perdite di acqua che noi abbiamo nelle nostre reti. Pensiamo che soltanto nel capoluogo della provincia di Chieti le perdite superano il 70%. Secondo noi è inaccettabile, i cittadini ci chiedono di risolvere il problema dei razionamenti e delle tariffe che non si comprende bene come vengano calcolate per cui il soggetto principale di questa Commissione saranno certamente i cittadini e le audizioni dei cittadini e poi le audizioni di tutti i soggetti e gli attori interessati nella gestione del sistema idrico e noi speriamo nella collaborazione di tutto il Consiglio regionale perché non è appunto una Commissione d'inchiesta contro nessuno e una Commissione d'inchiesta per gli abruzzesi.